salve a tutti io sono nidio e questo è al 4 più perché questo titolo che è un pochino contraddittorio questo gioco che è perfetto ma ha dei difetti come è possibile allora ovviamente il titolo è un pochino il riflesso di quello che penso del gioco cioè è un gioco che potenzialmente per me è perfetto non raggiunge la perfezione ma potenzialmente per me potrebbe esserlo ma ha vari difetti vari difetti che non pregiudicano la sua bellezza complessiva ma che non sono neanche trascurabili e che vorrei approfondire nel corso di questa recensione innanzitutto però di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di nemesis gioco da tavolo finanziato tramite kickstarter di awaken realms portato in italia da craniocreation e tranquilli parleremo anche del regolamento della traduzione italiano e di alcuni errori anche gravi che ci sono stati ma ne parleremo a fine video ed è un gioco semicooperativo da uno ma diciamo la modalità principale da due a cinque giocatori che ci mette nei panni di un equipaggio all'interno di una nave la nostra la nemesis che ha subito un'invasione da parte di una specie aliena noi ci risvegliamo all'interno delle nostre eravamo in delle capsule di ibernazione quindi ci siamo svegliati e troviamo uno dei nostri compagni morto noi dovremo riuscire durante l'arco della partita a sopravvivere all'interno di questa nave infestata appunto da numerosi alieni e far tornare l'astronave verso la terra non sarà un compito semplice ma soprattutto come mai dicevo è semicooperativo beh perché ogni personaggio avrà un suo obiettivo speciale che gli altri non conoscono e l'obiettivo del personaggio potrebbe pregiudicare gli obiettivi degli altri cioè alla fine della partita non ci sarà necessariamente un vincitore e tutti gli altri hanno perso cioè ci potrebbero essere tutti i vincitori difficile tutti che hanno perso più probabile oppure che qualcuno vince qualcuno perde può esserci anche solo uno che vince gli altri perdono insomma potrebbe essere necessaria la cooperazione in molti momenti lo sarà però in altri momenti no anzi in altri momenti dovrete combattere fra di voi non ci sarà mai un combattimento diretto come avete visto nelle regole nel tutorial che è uscito la scorsa settimana però dovrete combattere diciamo di astuzia l'uno contro l'altro e per approfondire alcuni argomenti partiamo vedendo i lati positivi del gioco ora come dicevo in apertura per me è un gioco molto bello cioè io faccio questa premessa e come mai faccio una premessa del genere perché non voglio in questo video tanto parlare dei lati positivi se leggete una recensione qualsiasi su un sito qualsiasi vedete un video di youtube vedrete che ne parlano bene elencheranno i mille motivi per cui questo gioco è bello ok è bello lo so e anche per me lo è non sto negando quello che dicono gli altri però mi piacerebbe approfondire in questo video gli aspetti più che altro gli aspetti negativi perché sono quelli che vengono meno sottolineati e che secondo me meritano un approfondimento partiamo però dai prodotti diciamo elenchiamoli in modo molto così molto colloquiale senza approfondirli troppo innanzitutto mi è piaciuta la possibilità di avere varie modalità di gioco come vi dicevo c'è la modalità principale che è quella da due a cinque giocatori però ci sono varie modalità aggiuntive diciamo la modalità principale aggiuntiva è quella o in solitario o in cooperativa all'interno della quale c'è anche volendo una storia che può essere seguita con delle scelte che possono essere fatte si vede che il gioco è stato studiato non per essere fatto in cooperativa tuttavia è un'aggiunta fatta bene vi sconsiglierei di prendere il gioco solo se volete giocarlo in cooperativa o solo se volete giocarlo in solitario però come aggiunta ad un gioco ben solido è fatta molto bene altra cosa dicevo appunto il gioco è solido in che senso beh ha delle meccaniche che sono sicuramente ben studiate si vede che c'è tantissimo studio dietro e la cosa che mi fa piacere è che sono anche ispirate si vedono influenze da varie giochi differenti però si vede anche una certa dose di volontà di sperimentare qualche nuova qualche nuova meccanica forse anche troppe meccaniche perché ce ne sono tantissime però c'è questa volontà e mi ha fatto molto piacere la scalabilità in generale è buona diciamo che per 3 3 4 5 giocatori è meglio la modalità principale per due giocatori a me piace di più vederlo in cooperativa perché la modalità competitiva in due giocatori per me perde un po perché insomma solo due personaggi che si muovono all'interno della nave non lo so non mi piace molto come immersività del gioco secondo me rende meglio come a livello di idea poi a livello di meccanica che funziona bene in qualsiasi numero di giocatori ma a livello di idea mi rende meglio in più giocatori e poi una sfilza diciamo di lati positivi che sono evidenti miniature meravigliose raramente ho visto delle miniature fatte così bene che con così tanti dettagli grafica a livello di carte eccetera buona forse non la migliore mai vista in un gioco da tavolo ma sicuramente molto buona accurata componenti in generale fatti bene la plastica dei componenti è ottima ok ho sorvolato molto sui lati positivi ma come vi dicevo questo video si vuole concentrare sui lati negativi e volendo vi vuole fare anche un po arrabbiare perché sono sicuro ma sicuro che molti di voi non saranno d'accordo con me su molti dei lati negativi che dirò d'altronde mi piace un pochino innescare questa discussione perché non mi piace neanche vedere tutti è bello è meraviglioso eccetera è bellissimo il gioco a me piace ma ragioniamo anche un attimo su alcuni aspetti che possono far storcere il naso partiamo con un aspetto che a me davvero la prima cosa che ho notato e mi ha disturbato tantissimo il setup è disumanamente lungo ci sono tanti giochi che richiedono ore ore ma insomma tanto tempo di setup io a nemesis la prima volta che ci ho giocato non vi nascondo che ci ho messo 40 minuti per il setup è tantino diciamo che una volta che uno si velocizza 20 minuti ce li metti lo stesso comunque qualcuno di voi sono sicuro vi dirà no io ci metto 10 secondi con il set non è vero non è vero e se dovete spiegare le regole a qualcuno state tranquilli che dovete prendervi almeno un'ora iniziale per spiegare fare il setup e spiegare le regole è inevitabile ci sono tanti componenti ci sono tante meccaniche ci sono tantissime cose da fare è inevitabile un setup così tra le cose da ridurre cambiando un pochino l'argomento è quella benedetta plancia di gioco è enorme ma perché è così grande non ha motivo di essere così grande la plancia di gioco vedendola non dà l'impressione di essere forse troppo grande ma una volta che vedete quello che c'è disegnato sopra ma la metà proprio praticamente poteva essere la metà e avrebbe dato molto più spazio al resto dei componenti di gioco e a una disposizione efficace sul tavolo cioè così vi serve un tavolo enorme per giocare in 3 4 persone se la plancia fosse stata ora esagero forse a dire la metà ma un tre quarti sarebbe migliorata molto la situazione oltre ad essere molto grande la vedo un po spoglia appunto forse proprio perché è grande che la vedo un po spoglia e da un punto di vista grafico è quella che mi ha convinto meno perché è tutto ben definito ha tutta una grafica perfetta ma quella plancia è scura voi dite vabbè è un gioco horror deve dare l'idea di oscurità deve dare l'idea di qualcosa di tetro secondo me è anche troppo oscura questo vabbè è un aspetto grafico che può essere molto soggettivo quindi non dateci troppo peso ma è una cosa che mi ha fatto un pochino storcere il naso perché avrei preferito una plancia più chiara più piccola più compatta tanto le cose sulla plancia non è che siano così tante da ricordare sono più le cose che aggiungete voi e per rimanere in tema qualcuno mi potrebbe dire la plancia è enorme perché le miniature sono enormi ma perché perché queste miniature sono così grandi sono bellissime allora qua per ogni punto negativo sto dicendo servirebbe un video a parte per parlarne sono stupende però alzano il prezzo di gioco voi direte vabbè ma io lo so ci sono le miniature il gioco costa tanto perché ci sono le miniature bisogna fare un bilancio fra quello che costa il gioco e quanto sono disposto a spendere per avere solo graficamente quelle miniature cioè le miniature sono belle sono grandi sono enormi ma non hanno nessun motivo di meccaniche per essere così grandi l'unico motivo è grafico è visivo e visivamente rendono tantissimo il prezzo del gioco è alto attualmente si trova non mi ricordo se a 120 o 130 euro il gioco e io non cioè non lo so e non non faccio non sono un creatore di giochi da tavolo nel senso non so i prezzi per creare i giochi da tavolo ma io so che esiste butter star galattica che ha un sacco di roba all'interno anche qualche piccola miniatura e costa 40 euro anzi alle fiere ormai lo trovi anche a 20 euro vabbè però diciamo il prezzo di base 40 euro questo gioco in più rispetto a batter star galattica ne ha tanta di roba ma se non fosse per le miniature il gioco secondo me potrebbe costare meno della metà cioè secondo me potrebbe tranquillamente ma proprio tranquillamente essere venduto a 60 euro ora voi direte vabbè ma a me piacciono le miniature anche a me e se voi mi dite c'è la versione con la miniature e la versione senza miniature prendo anche al costo di spendere 60 euro in più quella con le miniature ma per una persona che vuole provare il gioco magari se le miniature gli interessano ma non vede motivato a spendere 60 70 euro in più per delle miniature ma dategli la possibilità di acquistare un gioco senza ragazzi 130 euro per questo gioco è tanto su kickstarter va bene spendi più o meno alla fine con le spese di spedizione forse anche di più però poi anche tutte espansioni tutti gli stress goal eccetera per il gioco base però 130 euro a questo punto sono motivati sì più o meno però non sarei disposto a spendere così tanto quindi quello di cui emigliamento è l'assenza di una versione senza miniature o con le miniature piccole a grandezza dei personaggi con tutto ridimensionato per poter fare una versione tra tantissime virgolette pocket perché non potrà mai essere pocket nemesis però diciamo una versione un pochino ridotta del gioco una piccola nota che riguarda la grafica io ho detto è tutto bello è tutto fantastico è vero non so se questo è un problema che sono io magari ho una buona vista eccetera ma le carte contaminazione io se mi impegno anche senza scanner riesco a leggere quello che c'è scritto sopra il che può essere problematico a livello di gioco perché se voi sapete già che la vostra carta contaminazione non ha sopra la parola infetto vabbè sì vi limita un po la possibilità di azione ma sopravvivete anche tenendovela ora sì devo mettermi un po di impegno per vederla però visto che è una cosa che posso fare sinceramente non lo so forse sono io che la vedo normalmente non si vede non ve lo so dire rimangono gli ultimi due punti da da trattare lasciamo per ultimo quello più caldo ovvero il regolamento parliamo prima un attimo delle meccaniche le meccaniche per me sono stupende e quello che faccio è più un appunto un qualcosa che mi sarebbe piaciuto vedere ma le meccaniche vanno benissimo già così come sono quello che mi sarebbe piaciuto vedere è la possibilità di interagire in modo più diretto tra i personaggi si può interagire in modo diretto ci sono tanti modi per dare noi agli altri attaccare gli altri in modo indiretto diciamo ci sono tanti modi ma non c'è la possibilità di sparare ad esempio direttamente a un nostro amico è vero all'inizio della storia le persone giustamente si sono appena svegliate non è che si ammazzano tra di loro quindi è giusto che uno all'inizio sono i tuoi amici non gli spari è normale e mi torna ma alla fine la tensione sale sai inizi a capire che quella persona ha un obiettivo diverso dal tuo potrebbe in qualche modo danneggiare il tuo obiettivo magari mettere una regolina che negli ultimi turni di gioco sia possibile attaccare gli altri giocatori non lo so mi sembra un'idea carina come aggiunta però vi dico appunto le regole vanno benissimo già così come sono ci siamo parliamo del regolamento ora la situazione è un po delicata forse qualcuno di voi non lo sa ma c'è stato proprio un caso mediatico dietro al regolamento non tanto dietro al regolamento dietro alla traduzione del regolamento all'adattamento in italiano del regolamento di nemesis anche in questo caso mi piacerebbe portare un video a parte e lo porterò probabilmente un video interamente dedicato al regolamento e quello che per me dovrebbe essere un regolamento però questo regolamento ha tanti problemi e nel tutorial già qualche appunto per farvi capire che nel regolamento c'era qualche errore e l'ho già modificato all'interno del tutorial però alcune carte eccetera delle quali nel tutorial chiaramente non capita di parlare non ve l'ho parlato appunto quindi ora vi lascio un attimo ad una piccola clip di flavio flavio che è un ragazzo della tana dei goblin che è stato dietro al prototipo del gioco fin dalle sue prime fasi ha visto come si è sviluppato e ha potuto vedere anche come si è evoluta il suo adattamento e la sua traduzione e mi ha fatto questo piacere di registrare questo piccolo video per parlarvi dei diciamo degli errori di traduzione più grandi così che voi possiate sapere che quelli sono errori appunto e quindi possiate correggerli nel modo corretto ciao a tutti sono il conte rs faccio parte di garfa ludica dana dei goblin di casse nuovo di garfagnana ringrazio il 4 più per la collaborazione visti alcuni errori nei componenti tradotti di nemesis sono qui per mostrarvi delle errada non ufficiali per riuscire a giocare nel modo corretto iniziamo con la carta strumento del meccanico saldatrice al plasma che va attivata nella stanza magazzino e non nel sistema antincendio poi abbiamo la carta evento qua sta il sistema di supporto vitale il testo corretto è posizionate un segnalino malfunzionamento su ciascuna stanza verde infine abbiamo la carta evento l'incendio si propaga in cui manca la frase iniziale posizionate un segnalino malfunzionamento in ogni stanza in cui è presente un segnalino fuoco vi lascio inoltre file non ufficiali con le errate del manuale del fumetto campagna così da poter giocare correttamente nell'attesa delle errate ufficiali e speriamo nelle carte sostitutive vi auguro buon gioco e soprattutto buon viaggio a borda la nemesis ringrazio ancora flavio per l'intervento hanno fatto lui e mi ha detto sono cinque sei gruppi che si sono riuniti per trovare tutti gli errori correggerli hanno fatto un lavoro fantastico e in descrizione ringraziate sempre flavio in descrizione trovate il link con l'errata corrige con tutti tutti gli errori tradotti diciamo e corretti in modo non ufficiale ora che abbiamo visto che gli errori ci sono vorrei fare un piccolo appunto gli errori sono tanti sono gravi ci sono errori di italiano anche abbastanza importanti congiuntivi sbagliati soggetti completamente non si capisce qual è il soggetto eccetera però a me non è che mi abbia toccato più di tanto mi è stata detta questa cosa ho visto proprio c'è stato questo caso mediatico e mi è stata presentata come una situazione critica mi la trovo piuttosto nella norma non ho mai mai visto un regolamento senza errori sì ma cioè quelli piccoli magari no sturgeon no tranquilli un regolamento grosso così ed è pieno di errori anche quello però in generale è difficile che un regolamento di 30 pagine più sommate quante saranno buono ora dico un numero a caso ma due 300 carte messe all'interno del gioco tutte da tradurre tutte da riguardare non contengano errori ora gli errori che ci sono appunto sono tanti ma non esiste una figura professionale di penso almeno di adattatore di giochi da tavolo magari ci sarà il traduttore che viene preso per fare questo lavoro o un semplice appassionato che viene messo lì a fare il lavoro peraltro con una scadenza in termini di tempo per le cose che deve fare c'è tantissima roba da tradurre quel regolamento quindi quello che voglio dire il regolamento ha tanti errori è bene segnalarli ed è fantastico come la community si sia riunita per trovarli e scriverli tutti così che tutti possano godere del del gioco così come è stato studiato ma a livello pratico questo per me non il mio giudizio non è in alcun modo influenzato dal fatto che il regolamento abbia dei problemi ho letto dei regolamenti che non avete idea proprio non avete idea bene siamo arrivati alla fine di questa recensione diciamo è una recensione un po atipica non mi sono soffermato sui pro anche se per me i pro sono più dei contro e mi sono soffermato su quei pochi contro che ci sono a mio parere e dei quali mi piacerebbe discutere insieme a voi e vi ho appena detto la recensione è finita ma rimane un ultimo paragrafino ve lo consiglio il gioco ni lo so non è la risposta che vi sareste aspettati vi ho detto finora è bellissimo è fantastico è stupendo ma è 130 euro 130 euro no ragazzi cioè è un gioco bello ma secondo me non vale 130 euro quel mio consiglio è cioè capisco il perché ci siano 130 quelle miniature cavolo costeranno però sinceramente secondo me è un gioco da comprare nel momento in scendere sotto i 100 euro questo è il mio giudizio personale per me 130 euro è un po troppo siamo un pochino troppo in alto ora siamo davvero arrivati alla fine del video lo so vi ho fatto arrabbiare lo so sono stato un po crudele in questo gioco con un gioco che non se lo meritava però mi piace ogni tanto anche fare un pochino di discussione così fuori dagli schemi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate avete provato il gioco avete visto il come funziona il gioco io ringrazio ancora a flavio tutta la sana dei goblin per il lavoro che hanno fatto iscrivetevi al canale mettete mi piace condividete il video commentate fate tutto io non so più che cosa sto dicendo quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti